Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio portarvi un video riguardante quelle che sono le impostazioni controller, un tema tanto dibattuto sia in quelle che sono le mie live che in quelle di altri giocatori di FIFA, perché spesso vedo grande confusione riguardante quelle che sono le impostazioni del pad e non solo, anche quelli che sono i settaggi relativi alle diverse opzioni disponibili che secondo voi possono dare determinati vantaggi o meno. Spesso vedete nelle impostazioni di controller quelli che sono magari i segreti di un giocatore, ma io vi andrò a spiegare, vi andrò a dimostrare che non è così e come per ad esempio altri tipi di impostazione, come che ne so, la visuale, le tattiche eccetera, questo non è altro che un qualcosa che va regolato in base a quelle che sono le vostre preferenze personali. Dunque andiamo subito a vedere quali sono le mie e insomma quali sono tra virgolette i settaggi migliori che potete andare a mettere. Vabbè, ovviamente il trainer è un qualcosa che credo il 99,999 periodico dei giocatori ha disattivato. Passiamo a vedere la finalizzazione a tempo, il time and finishing, tanto dibattuto che è stato introdotto l'anno scorso, che quest'anno come sapete o come avrete notato o se non avete notato o non sapete ve lo dico io, ha subito un potente nerf, di conseguenza non risulta essere più decisivo come l'anno scorso, anzi spesso e volentieri andare a cercare di prendere un time and verde anche a causa della situazione server può essere un vero e proprio rischio che anche se tradotto poi nel risultato massimo non vi porta a segnare. Ho tanti esempi di partite nelle quali veramente a porta spalancata sono andato a fare un time and verde e il tiro non è entrato quando magari addirittura senza il time and avevo avuto esperienze precedenti di tiri che entravano. E allora direte, Liberoschi, perché lo tiene attivato il time and? Bah, fondamentalmente perché a me non capita mai di andare a panicare, soprattutto in quelle situazioni di palla vagante, spammare il tasto del tiro finendo per andare a prendere un rosso che mi va a pregiudicare l'azione. Da quello che poi ho saputo è che anche se andate a mettere finalizzazione a tempo disattivata, in realtà sulle punizioni è come se risultasse sempre attivo, quindi potreste andare a farlo. Ed è proprio per quello che io comunque lo tengo attivato, perché su punizioni e rigori il time and lo reputo non fondamentale, ma può risultare essere un vantaggio. Avete visto anche nel tutorial delle punizioni che ho caricato qualche tempo fa come prendere il verde o anche il giallo da un bel boost al tiro. Stessa cosa ai rigori, se ai rigori riuscite ad angolare bene e a prendere anche un bel time and verde e non il giallo, spesso e volentieri il portiere avversario non potrà nulla. Per quanto riguarda l'icona cambio secondo difensore, di che si tratta? Si tratta praticamente di un secondo cursore che voi potete spuntare in testa ai vostri giocatori stile The Sims in fase di non possesso. Perché ho sì e perché ci sono altri che invece non lo hanno attivato? Beh, io lo tengo attivato in quanto mi dà la certezza in un gioco dove lo switch non è che sia proprio tarato bene 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 di sapere in qualsiasi momento quando io premo L1 quale sarà il giocatore che andrò a selezionare. Di fatti si riferisce proprio a questa opzione, ovvero al giocatore che una volta che schiacciate L1 andrete a controllare. Ovviamente questo non si attiva nel caso in cui andate a switchare invece con l'analogico, che vi consiglio sempre di fare, ossia di andare a coniugare switch con L1 e switch con l'analogico, perché è l'unico modo per poter avere una fase difensiva adeguata che vi può permettere anche di applicare del pressing manuale. È un'impostazione che consiglio soprattutto all'inizio, quando avete della difficoltà a regolarvi su quale tasto andare a utilizzare per cambiare giocatore. Questa impostazione dunque vi può far vedere in maniera proprio chiara quali sono quelli che si andranno a selezionare. E vi devo dire la verità, io l'anno scorso, perché è stata introdotta l'anno scorso, all'inizio non la usavo, ma una volta che l'ho attivata mi ci sono trovato talmente tanto bene che mi ha fatto a migliorare, b abituare, e quindi per questo motivo è ancora lì ed è ancora attivata. Per quanto riguarda l'aiuto intercettazione passaggi, invece, questa impostazione riguarda il cosiddetto intervento automatico, quello che quando abbiamo giocatori, insomma, di un certo livello, alla Viera A, alla Gullit, alla De Jong Toti, alla Kante Toti, eccetera, si traduce appunto in un intervento a cercare di bloccare quello che è il passaggio dell'avversario senza che voi andate effettivamente a premere nessun tasto o magari state semplicemente temporeggiando con l'E2 ed è un qualcosa che anche in questo caso, credo, la stragante maggioranza dei giocatori va ad utilizzare visto che qualora appunto ci può essere un aiuto da parte della CPU, lo cogliamo ben volentieri e la maggior parte dei giocatori lo coglie ben volentieri. Per quanto riguarda cambio automatico, io ho l'impostazione su palle alte e vaganti, le altre sono automatico, manuale, eccetera. Il motivo per il quale io ho palle alte e vaganti è il seguente, automatico, alle volte, visto che come vi ho detto in precedenza, lo switch non è proprio super responsivo, rischiate che quando appunto l'avversario vi lancia a lungo non riuscite a selezionare per bene il terzino e quando l'ho selezionato c'è sempre quell'animazione di frazione di secondo che il giocatore rimane piantato e l'avversario se ne è bello che è andato. Scusatemi, questo era per manuale. Automatico invece quando lo fa appunto il gioco in automatico per voi, cosa che odio perché voglio essere io in controllo delle cose che accadono. Per quanto riguarda invece palle alte e vaganti, credo che sia l'impostazione migliore, perché non è altro che un manuale coniugato ad un automatico, però solamente nel caso in cui la palla sia appunto una palla lanciata lunga o una palla vagante. Nel caso delle palle vaganti non sono proprio d'accordissimo, però appunto, soprattutto sulle palle alte, quando vi partono i giocatori alle spalle, è ottimo avere già l'indicatore selezionato sul vostro giocatore che sta rincorrendo in maniera tale da poter andare a chiudere immediatamente. Per quanto riguarda aiuto movimento cambio automatico, questa è un'altra impostazione dibattutissima, che cosa metto, nessuno, limitato, elevato, eccetera, a cosa serve? Aiuto movimento cambio automatico non è altro che un piccolo movimento che il giocatore vostro andrà a fare quando passate e switchate da un giocatore all'altro. Esempio, ho Kant e Toti e De Jong Toti, sto correndo incontro a un avversario che però so che sta per passare il pallone, allora inizio a selezionare De Jong. Nel momento in cui avete nessuno, il vostro Kant e che avete deselezionato rimarrà fermo. Con limitato continuerà a fare un lieve movimento anche una volta che l'avete deselezionato, con elevato farà un movimento ancora più ampio. E questo che cosa vi permette? Vi permette dunque di poter andare a chiudere sia con il giocatore che avete lasciato un eventuale passaggio, diciamo, verso quella direzione, sia andare a cercare di chiudere un'altra linea di passaggio andando a selezionare un altro giocatore. E io ho limitato proprio perché questo piccolo movimento è molto più preciso rispetto ad elevato, perché con elevato spesso e volentieri escono fuori quella che è la linea di passaggio avversaria, quindi voi quella linea di passaggio ve la siete persa frattanto che avete selezionato il giocatore sotto. Per quanto riguarda affronta, questo non è altro che l'impostazione relativa al mantenimento del tasto L2 in fase difensiva e può essere assistito manuale. Io vi assicuro, li ho provati entrambi, non cambia assolutamente nulla, se non che con assistito c'è una maggioranza di interventi automatici, cioè quando schiacciate L2, magari andate sotto senza premere il tasto del contrasto, spesso e volentieri vi può andare a togliere la palla in maniera automatica. Ma comunque fondamentalmente non cambia nulla, io vi consiglio di mettere assistito, c'è chiusa manuale, ma vi ripeto, poi quello rientra nel computo delle vostre preferenze personali. Per quanto riguarda il cambio con la levetta destra, quindi l'altro tipo di switch io ho in base al giocatore, l'altra impostazione è in base al pallone, ovviamente in base al pallone ragazzi sarebbe una pazzia, perché mettete che voi state cambiando un giocatore e l'avversario vi passa la palla, allora la prospettiva diventa quella del pallone e vi cambia automaticamente lo switch, diventa una pazzia. Già switchare con l'analogico su sto gioco non è facile, io vi consiglio di tenere in base al giocatore, credo che se esiste qualcuno che usa in base alla palla presentatemelo, perché è un visionario, un genio incompreso. Per quanto riguarda una serie di impostazioni che adesso vediamo, ovvero aiuto passaggi, passaggio filtrante, tiro, cross, eccetera, eccetera, io ho sempre assistito, l'unica cosa che io vado a settare in manuale è l'aiuto passaggio alto, e voi direte perché. Perché da qualche anno, più o meno, ma forse sì da FIFA 19, che i passaggi filtranti L1 triangolo sono mezzi marci, e io vi assicuro che se voi piazzate manuale, i vostri passaggi con L1 triangolo saranno molto, molto più precisi. Questo tip me lo diede all'epoca il coach che avevamo in casa Makers, e vi devo dire la verità che da quando l'ho piazzato in manuale ho avuto un giovamento pazzesco. Se voi non l'avete fatto vi consiglio di provare, perché secondo me è worth come impostazione. Per quanto riguarda poi invece aiuto parate, insomma, semi, va benissimo. Scatto analogico. Cosa significa scatto analogico? Tutti quanti mi chiedete, ma tu c'hai sì, no? Scatto analogico vuol dire che tanto più premete forte il tasto della corsa, tanto più il giocatore si allungherà il pallone. Ovviamente se l'avete tenuto impostato sul sì. Che sarebbe la stessa cosa che il giocatore fa quando voi premete l'analogico nella direzione in cui correte. Quindi io lo tengo impostato su un no, anche perché mettete che magari una volta, sai, vado a calcare di più per correre, perché, non lo so, faccio una pressione maggiore, non vorrei mai che il giocatore mi si allungasse la palla senza che io lo chieda. Di conseguenza ho impostato no. Blocca ricevitore passaggio è una nuova impostazione che c'è quest'anno e c'è presto o tardi. Che cosa vuol dire? Quando voi fate un passaggio, c'è un certo lasso di tempo che intercorre tra il passaggio stesso è il ricevere il pallone. In questo lasso di tempo, qualora voi mettiate tardi, il giocatore che riceverà il passaggio non si va a selezionare subito, quindi potrebbe, appunto, essere colpito dal pallone, perché figuratevi con i server potrebbero succedere mille cose, fassi passare la palla dietro, cosa che già succede con presto, sempre a casa dei server, quindi figuratevi con tardi. Di conseguenza io ho presto, in maniera tale che voi direzionate il passaggio, il giocatore si locca subito sul passaggio ed è pronto a ricevere il pallone, in maniera tale che, appunto, evitate qualsiasi forma di marciume al quale siamo abituati. Quindi queste erano le mie impostazioni controller, spero di aver fugato quelli che sono i dubbi principali riguardante questa cosa, nulla, vi saluto, ci vediamo come al solito su Twitch dalle 12 alle 16 ogni giorno, e niente raga, peace!